sono di nuovo Roberta Profeta e questa volta sono qui con Cristina Favini allora Cristina qui abbiamo visto cose veramente molto interessanti aziende design driven come Prezi e abbiamo visto abbiamo sentito prima Scognamilio parlare anche di antropologia legata al design e via discorrendo ci puoi raccontare un po' cosa state facendo voi in questo senso? Dunque Roberta noi di Logos stiamo vivendo un periodo eccezionale nel senso siamo oltre 120 persone che lavorano per accompagnare l'innovazione nelle imprese e in questo momento dove c'è un'unica parola fortissima che è civiltà digitale sta portando a grossissima rivoluzione nelle imprese da un cliente anfibio ai vecchi concetti di economia al fatto delle tecnologie sociali porteranno a un salto antropologico del modo di essere e di fare impresa salto antropologico cosa vuol dire che vincerà l'impresa intelligente quindi una nuova specie di impresa ma un'impresa che saprà attivare intelligenza collettiva oggi tanti ci hanno parlato di intelligenza ci hanno parlato di organizzazioni che dovranno essere più lavorare sul tema dell'organismo quindi vuol dire l'impresa intelligente che saprà essere aperta che saprà essere sostenibile evolutiva digitale ma soprattutto collaborativa quindi la forza è attivare valorizzare l'intelligenza delle persone che lavorano nelle imprese che lavorano insieme alle imprese allora capisci che anche il ruolo del design diventa centrale perché design è il regista di tutto questo è la capacità di saper accompagnare di saper gestire di saper favorire la collaborazione quindi parliamo più di un collaborative designer quindi un ruolo assolutamente forte che mette insieme intelligenze linguaggi diversi che utilizza la forza delle idee del progetto per trascinare l'innovazione quindi io credo che stiamo vivendo un periodo eccezionale quindi vivrà l'impresa intelligente una nuova specie ma anche soprattutto ci sarà una nuova specie per me di interaction designer io parlerei più di forse possiamo dire inter-reaction designer non più soltanto quindi la capacità di gestire l'uomo macchina l'interfaccia ma la capacità di gestire le intelligenze collettive quindi di fare in modo che l'intelligenza favorisca la collaborazione e che quindi le tecnologie dovranno aiutare questo quindi dobbiamo inventarci un nuovo skill anche grazie mille cristina e buon proseguimento ciao a tutti